Seppur la situazione dei contagi pare sotto controllo in città, sono ripresi nell'ultimo periodo i ricoveri nel reparto di malattie infettive del dottor Alessandro Grimaldi, che traccia un identikit di chi sono i ricoverati, spesso senza vaccino e di qualsiasi età, giovani e meno giovani. Ad oggi il reparto è quasi pieno, nel weekend sono stati dimessi alcuni pazienti guariti e il primario spera che la situazione possa restare così senza ulteriori ricoveri. Continua a essere abbastanza pieno, nel weekend abbiamo liberato finalmente qualche posto, abbiamo dimesso delle persone guarite e speriamo che non ci siano nuovi arrivi. Purtroppo abbiamo constatato che gran parte delle persone che sono arrivate negli ultimi tempi erano persone non vaccinate e soprattutto l'andamento sfavorevole della malattia proprio caratterizza questi pazienti non vaccinati, quindi è necessario continuare a vaccinarsi. La vaccinazione resta l'unica speranza, assieme ai comportamenti corretti, distanziamento e mascherina e il primario, in vista della ripresa dell'anno scolastico, invita i ragazzi a vaccinarsi. Rimane l'arma fondamentale perché si è visto che, ad esempio, la variante delta, che è quasi dieci volte più contagiosa rispetto alla variante alfa, cioè la cosiddetta variante inglese che circolava l'anno scorso, riduce un po' l'efficacia dei vaccini, ma non in maniera significativa. La terapia degli anticorpi monoclonali rimane un'arma importante per la cura in determinate categorie di pazienti. Ancora si usa poco qui, da Grimaldi l'appello ai medici delle USCA a segnalare casi allo stadio iniziale che possono essere trattati in questa maniera. Debo dire che nella fase iniziale della malattia possono, diciamo, in qualche modo contenere il virus e quindi favorire un'evoluzione migliore dell'infezione. Quindi da questo punto di vista io raccomando ai medici di famiglia e ai medici delle USCA di segnalarci i pazienti che rientrano nei criteri per essere trattati con gli anticorpi monoclonali, ripeto, anche perché verosimilmente potrebbero diventare con gli anticorpi di seconda generazione o con i cosiddetti super anticorpi, una delle armi più efficaci per combattere il Covid.